condividere con voi alcune brevi riflessioni personali sul perché dovremmo incoraggiare quanto più possibile i giovani a effettuare formazioni o studi all'estero. Come abbiamo affermato in un parere recente del Comitato delle Regioni sulla strategia della Commissione per la Gioventù, per la nostra società che è una società che è un po' ovunque in Europa invecchia, i giovani devono essere considerati come una risorsa preziosa e basilare che può e che deve essere mobilitata per raggiungere obiettivi sociali ed economici. È quindi fondamentale per noi riuscire a mobilitare i nostri giovani, una mobilitazione letterale in qualche caso, farli muovere per sfruttare al massimo i programmi di formazione e di scambio esistenti e continuare anche a collaborare a livello locale e regionale per aumentare i progetti in questo senso, di questo tipo. Nel nostro recente parere intitolato Libro Verde, promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento, come Comitato delle Regioni osservavamo che la mobilità transnazionale volta all'acquisizione di nuove competenze è uno dei mezzi fondamentali attraverso i quali i giovani possono potenziare il proprio sviluppo personale, ottenere accesso a nuovo sapere, ampliare le loro conoscenze linguistiche, acquisire competenze interculturali e incrementare le proprie possibilità di occupazione. Tema che è ovviamente al centro delle nostre preoccupazioni e dei nostri dibattiti di questi giorni. La mobilità favorisce sicuramente una maggiore comprensione dell'identità europea e un senso della cittadinanza europea e aiuta naturalmente a combattere la xenofobia. Questo piccolo passaporto che credo abbiate anche voi, spero abbiate anche voi sul tavolo, se non è stato portato via nella riunione precedente, ma potete chiederlo, è proprio un po' un simbolo di quanto la mobilità per noi sia importante, di quanto noi pensiamo che far muovere i giovani possa permettere di acquisire una piena cittadinanza europea, una piena consapevolezza. Questa cittadinanza, questa identità europea può assumere molte forme, istruzione generale, formazione professionale, esperienza di lavoro. Questa mobilità ha tantissime ragioni e come facevamo notare in un altro parere del Comitato delle Regioni che è intitolato Erasmus per tutti, quando questi tipi di esperienze, che naturalmente si possono fare anche nel proprio paese, ma vengono realizzate all'estero, i giovani possono acquisire competenze preziose, non solo ovviamente quelle linguistiche, che pure sono importantissime, ma a vantaggio della loro istruzione successiva, della loro vita lavorativa, ma anche sul piano personale, proprio di arricchimento personale. Dopotutto ampliare le proprie competenze, applicarle in un ambiente nuovo, comporta lo sviluppo non solo di conoscenze specialistiche o anche generali, ma soprattutto comporta l'aumento dell'autonomia e della capacità di comunicazione. L'idea di dare ai giovani competenze che esulano dal quadro dell'apprendimento formale è stata ampliata in un altro nostro recente parere e in questo caso era il parere sul programma quadro della Commissione per i settori culturali e creativi, denominato Europa Creativa. Nel parere sottolineavamo che la creazione di reti e banche, banche dati per i giovani artisti, per prendere ad esempio un specifico esempio, a livello locale e regionale, può aiutare i giovani a sviluppare la loro professionalità anche attraverso la formazione di associazioni in ambito artistico-culturale, associazioni transnazionali e credo tutti noi abbiamo esperienza di casi di questo tipo. La promozione della mobilità dei giovani artisti può inoltre tradursi anche in scambi e soggiorni creativi in altre parti, in altri paesi dell'Unione Europea. In un periodo di crisi economica come l'attuale, l'istruzione è spesso considerata un mezzo per migliorare l'occupabilità di un individuo e, dati gli alti livelli di disoccupazione, è ovviamente importante e anche in realtà inevitabile pensare secondo questo approccio. Non va però dimenticato che l'istruzione costituisce anche uno strumento per stimolare lo sviluppo proprio di un individuo come persona, non solo come lavoratore. Al Comitato delle Regioni noi crediamo che le Regioni e gli enti locali possano contribuire in modo significativo a incoraggiare la mobilità per l'apprendimento. E in effetti nell'accettare il premio Nobel per la pace, lunedì scorso, avete visto se siete passati nei nostri corridoi la ripresa della cerimonia, un filmino sulla cerimonia, dicevo il Presidente Barroso ha detto come esempio positivo di riconciliazione pacifica basata sull'integrazione economica, contribuiamo a sviluppare nuove forme di cooperazione costruite sullo scambio di idee, di innovazione e di ricerca. Questa cooperazione va proseguita e sviluppata anche nel futuro. Nel ringraziarvi ancora per essere qui con noi a discuterne, permettetemi ora di presentarvi Andrulla Vassilio, la Commissaria Europea che, come vi dicevo, è responsabile dell'istruzione, della cultura, del multilinguismo e della gioventù e che oggi ci parlerà delle recenti iniziative proprio nel settore della gioventù e farà anche il punto della situazione del futuro programma Erasmus per tutte.